Un dovere morale anche come tenitore di altri danni e oggi ti consegno le tue mani questo strumento con l'augurio e l'ospicio che non debba mai essere utilizzato. Grazie, un grosso applauso ragazzi, grazie a tutti quanti, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti che dal prossimo giugno è obbligatorio per tutte le società, ma averlo già prima del prossimo giugno è per noi un motivo di ulteriore sicurezza per tutti quanti i tesserati della società, ma soprattutto per i piccoli atleti. Il nostro amico Roberto D'Addio che ha deciso di farci questo regalo ha avuto un riconoscimento da parte della nostra società, abbiamo deciso di conferirgli la carica di presidente onorario della nostra società. era il minimo che potessimo fare per questo gesto bello, nobile e soprattutto vitale.